...e che può aiutarci a sollevare... ...e che può aiutarci a sollevare... ...eh, auguri, viva Napoli! Vai! 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 Oggi è un'occasione straordinaria per un grande evento sportivo, questo grande evento sportivo abbiamo avuto all'occasione anche di riempirlo di alcuni contenuti che sono non solo le cose belle che abbiamo, che dobbiamo far vedere con orgoglio e quelle non ce le può togliere nessuno. Ma come possiamo migliorare la situazione sociale, economica, delle bellezze, della fruibilità dei beni sia dal punto di vista del turismo, dei beni culturali e quindi abbiamo messo in campo anche mare, ambiente e sviluppo più di un miliardo di euro di grandi progetti europei quelli che vogliamo fare un po' come Pompei dei modelli, come ha ricordato il Presidente Monti dicendo un modello di buona politica su investimenti strategici e noi abbiamo voluto fare sulla depurazione, sull'ambiente, sul mare sul recupero del nostro ambiente, sui grandi temi dello sviluppo la grande portualità di Napoli e Salerno, bacino del Mediterraneo quindi una grande regione che deve crescere all'orgoglio di cambiare il passo e di dimostrare all'Italia e all'Europa che può diventare leader in queste grandi scelte strategiche senza il sud, senza la crescita della campagna, non cresce l'Europa e non cresce il nostro paese Grazie mille! Grazie! 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 Grazie!